un po' può allontanare l'acqua tutti devono imparare tutti ma sono tutti già tutti grandi la magnambola non si vede? la magnambola non si vede? la magnambola non si vede? Vieni a pescare un bigliettino? No, vieni a pescare un bigliettino, vieni, vai, vieni, vieni, allora, dal terzo premio coinvolgiamo la prole, occhio a qua, non la far cadere, vai, un bigliettino, vi ricordo, terzo premio, il salame, lo vince il numero 163, vi ripeto, 163, il salame, numero 163. Terzo premio il salame, poi, andiamo con il secondo premio che vi ricordo è il capo collo, lo vince il numero 105, 105 vince il capo collo, Oh, tira là, guarda, vai da Francesco, lì quel ragazzo appoggiato con la camicia, la quadri lì, e ti darà il premio. Grazie mille di aver partecipato, rullo di tamburi per il primo premio, il cestino gastronomico con funghi champignon, mezzo prosciutto, la pancetta, il vino, volete anche qualcos'altro, non lo so, no? Lo vince il numero, te lo lascio dire a te, dai, 168. 168, 168, vince il cestino gastronomico, vado a ridirvi i premi, vabbè, vi dico il primo e il terzo perché il secondo l'hanno già ritirato, 168 il primo, 163 il salame. Ragazzi siamo qua, se volete continuare a giocare con noi trovate in giro i nostri ragazzi con i grattevinci, quindi potete tranquillamente con un solo euro portarvi a casa o la televisione o la bicicletta oppure alcune delle pietanze che avete assavorato in questa serata. 168 il primo premio, è il tuo? Eh sì, è il tuo, hai vinto. Complimenti signora, vada da Francesco, non è andato. Vada qua la pesca un attimo che appena arriva Francesco poi gli portiamo il premio. Grazie a tutti per quelli che hanno partecipato, che hanno giocato, che hanno contribuito a riuscire la lotteria anche questa sera. Vi aspettiamo domani per una nuova lotteria, sempre in palio, fantastici premi. Se volete qua nella pesca di Topolino potete vincere una TV 32 pollici, una PlayStation 4, un iPhone 5. Ragazzi abbiamo la pesca più bella dell'Umbria, dai. Non ci allargano troppo, armaniamo tutto il circondale. E se no tanti dei prodotti, cittistica per la casa, giochi per bambini, chi più ne ha più ne metta. Se no, mette i vinci, se no con la musica del liscio oppure con il nostro Old Generation Pub, tutta la sera qua a Pianello finché volete. Signori, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e buon procedimento di serata. Stai zitto! Dai dai dai! Metti recco, lo sto a mettere, questo teatro di strada. Metti recco, lo sto a mettere, questo teatro di strada. Metti recco, lo sto a mettere, questo teatro di strada.